vediamo un po il presente indicativo le forme regolari in italiano ci sono tre coniugazioni principali la prima coniugazione con l'infinito che finisce in aree la seconda coniugazione con l'infinito che finisce nere la terza coniugazione con l'infinito che finisce nire io normalmente mi riferisco a questi verbi come i verbi in aree ere e ire perché non sempre la gente ha presente fresco il concetto di coniugazione i verbi in aree quindi funziona in questo modo io parlo tu parli lui parla noi parliamo voi parlate loro parlano allora da dire che tutti i verbi al presente indicativo alla prima persona cioè io finiscono in o e alla seconda persona cioè tu finiscono in i il noi finisce sempre in i amo nei verbi in aree lui e lei e la forma di cortesia lei finisce in a e loro finisce in anno il voi nei verbi in aree finisce in ate ma c'è un trucco che mi può servire per ricordarmi come finisce il voi in tutte e tre le coniugazioni se io prendo l'infinito e sostituisco la r di aree con una t ecco che automaticamente ho il voi parlare parlate ok allora sapendo questo prova adesso a scrivere il verbo vedere che è un verbo della seconda coniugazione cioè un verbo in ere ricordati cosa abbiamo detto prima metti in pausa il video prendi carta e penna e prova a scrivere le terminazioni di questo verbo ed ecco la soluzione io vedo tu vedi lui vede noi vediamo voi vedete e loro vedono vedi che è tutto uguale tranne per la terza persona singolare plurale lui e lei finisce in e vede e loro non finisce più in anno come nei verbi in aree ma finisce in uno anche il voi cambia ma con il trucco che abbiamo imparato prima è facilissimo ok allora sapendo questo e sapendo che il verbo partire è uguale al verbo vedere con l'eccezione di voi cioè cambia solo nella seconda persona plurale voi metti in pausa il video e prova a scrivere le terminazioni del verbo partire ed ecco qui la soluzione io parto tu parti le parte noi partiamo voi partite loro partono una cosa da notare è l'accento nella prima persona plurale noi e nella terza persona plurale loro noi parliamo vediamo partiamo cioè nel noi l'accento sarà sempre su questo io e loro parlano vedono partono cioè nel loro l'accento sarà sempre sulla terza ultima questo perché perché la lingua è fondamentalmente orale quindi se io parlo velocemente in una situazione in cui a volte non c'è completo silenzio l'attenzione del mio interlocutore può non essere totale e io dico parliamo parlano è molto facile confondersi invece cambiando l'accento gli italiani che sono molto intelligenti con un minimo sforzo hanno reso questi due verbi chiaramente diversi in modo da non dar luogo a malintesi noi parliamo loro parlano sentite come diverso rispetto a parliamo e parlano molto diverso vediamo un'altra cosa interessante che è un trucco che vi servirà tantissimo quando poi inizierete vedere i verbi irregolari e semi irregolari nella seconda e nella terza coniugazione cioè verbi nere e inire il loro si può ricavare quasi sempre diciamo nel 99 per cento dei casi dalla prima persona io vedo loro vedono io parto loro parto no cioè aggiungo alla prima persona no no metti in pausa il video prendi carta e penna e prova a fare uno schema il più sintetico possibile dei verbi irregolari in aree e reire ecco qui la mia versione che non è l'unica corretta ma è il frutto di anni di ragionamenti economia e studenti quindi il copyright è condiviso io finisce sempre no tu finisce sempre nì lui lei e lei di cortesia finisce in a nei verbi nare e finisce ne nei verbi nere e ire noi finisce sempre niamo voi dipende dal verbo a te te ite ma se ce lo dimentichiamo abbiamo il trucco dell'infinito loro nei verbi nare finisce nano e nei verbi nere e nire finisce nono c'è ancora un gruppo di verbi che sono considerati irregolari ma fanno un gruppo a parte sono tutti i verbi inire e aggiungono una sc nelle prime tre persone e nell'ultima persona se sapete il catalano e pensate per esempio al verbo preferì in catalano vedrete che anche in catalano ci sono verbi di questo tipo e hanno la stessa identica struttura questa struttura delle prime tre persone e l'ultima persona irregolare e noi e voi regolari è abbastanza comune nei verbi strani nei verbi irregolari italiani la ritroveremo questa stessa struttura per adesso vediamo un attimo come come suona capisco capisci capisce capiamo capite capiscono quindi abbiamo questa scuola dipendendo dalla vocale che abbiamo dopo nelle prime tre persone l'ultima mentre il noi e il voi sono perfettamente normali e regolari sono tutti i verbi nere è inutile studiarsi la lista di tutti questi verbi perché lo sforzo sarebbe immane e non si impara con le liste si impara mano a mano che uno ha bisogno di un verbo vedrete che pian pianino il vostro cervello che sa molto di più di voi riesce a scoprire in qualche modo il trucco per cui a un certo momento istintivamente saprete se è un verbo che fa sc o se un verbo come partire normalissimo